Buon pomeriggio a tutti e ringrazio gli organizzatori per l'invito. Vista la tempistica starò assolutamente nei tempi, anzi proverò a recuperare un po' di ritardo accumulato. Lascio alla segreteria dell'organizzazione del seminario una relazione in modo da lasciarvi una traccia organica e compiuta dell'argomento. Invece con le slide e con questo mio intervento proverò a dare un compendio a tutti gli interventi dei relatori che mi hanno preceduto. Anche perché il lavoro delle commissioni di vigilanza all'interno del quadro normativo rappresentato prima dall'ingegner Pulito, le attività della commissione di vigilanza sono la sintesi e la chiusura del cerchio di tutti gli elementi che concorrono all'organizzazione, progettazione, gestione e esecuzione di un evento di pubblico spettacolo. Queste tematiche le avevo studiato personalmente dal 2014 e li ho trovate come ottimi spunti per pratiche lavorative per ambiti della commissione. Vediamo la parte commissione di vigilanza che, come dicevo, è la chiusura del cerchio degli argomenti visti oggi. L'argomento più nell'assieme ripercorre i singoli argomenti. L'argomento è complesso, quindi vedremo soltanto una piccola parte come dettaglio. Un formato A3 è 420x297, nello stesso formato A3 possiamo rappresentare una parte del pianeta oppure una piccola parte di una stanza. Cosa proverò a trasmettervi? L'importanza del corretto punto di vista. Anche per dare risposta alla riflessione di prima dell'ingegner Fronteret che ha trovato certe distanze in alcuni consessi, in alcuni tavoli. Quindi l'importanza del corretto punto di vista. Ho ascoltato con molta attenzione i relatori che mi hanno preceduto e quindi proverò a tracciare soltanto alcuni approfondimenti, alcune precisazioni su quanto da loro rappresentato. A partire dal compendio normativo che ci ha proposto l'ingegner Pulito. Quindi partiamo dal testo unico di pubblica sicurezza e relativo al regolamento di attuazione. L'articolo 80 del regolamento di attuazione che investe le commissioni di vigilanza su competenze e compiti. Le modificazioni del DPR 311, soltanto alcuni stralci, le modifiche degli articoli 141 e 142 del regolamento che sono stati mutuati all'interno del DPR 311 come 141, 141 bis e 142. Andando soltanto per stralci, competenze delle commissioni esprime il parere, verificare le condizioni, accertare la conformità, controllare. Le competenze, la composizione delle commissioni, una competenza diciamo propria, ampliata da eventuali ulteriori componenti. All'interno del DPR 311 c'è la devoluzione dalla commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo per alcuni livelli di affollamenti e di tipologie verso le commissioni comunali. Quindi esprimere i pareri, accertare le condizioni di sicurezza, indicare le misure e le cautele ritenute necessarie, accertare la conformità, controllare che vengano osservate le norme e le cautele. Parlo da tecnico e immagino che in platea, o più che immagino ho avuto conferma in platea, ci sono molti colleghi tecnici. Per noi tecnici, che abbiamo una consuetudine su aspetti deterministici, leggere il termine cautele, l'intervento che chiuderà la giornata da parte dell'avvocato, ci potrà dare ulteriore compendio su questo aspetto. Noi tecnici, leggendo il termine cautele, attenzioniamo questo termine cautele perché non riconosciamo col termine cautele elementi deterministici o determinati. Le attività della commissione, finalizzate a cosa? Sono finalizzate al rilascio da parte del sindaco della licenza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. Questa dizione, per certi aspetti, può essere anche labile e di complessa individuazione. C'è una parte estraibile dalla circolare 1651, il decreto 19 agosto 96, c'è la parte specifica per la tematica di oggi dei luoghi all'aperto. Ci sono alcune definizioni o alcuni aspetti di valutazione sulla competenza della commissione, ripeto, un po' di frontiera. Le commissioni quindi vengono istituite con appositi regolamenti o estratto ad esempio il regolamento della commissione comunale della città di Torino, pubblicato sul sito della città di Torino. Volutamente per aspetti di applicazione formale e operativa della normativa, come vi dicevo, vi rimando alla lettura, se sarete interessati, della relazione che lascerò alla segreteria del convegno. Qui invece proverò a sfruttare questi pochi minuti per darvi degli item, a mio giudizio, essenziali e salienti. Quadro normativo, TULPS, regolamento di attuazione, modificazione DPR 311, abbiamo anche quindi chiare le competenze e i compiti della commissione, abbiamo anche dei regolamenti di lavoro delle commissioni, abbiamo un quadro normativo specifico, l'ingegner Pulito ha tracciato ad esempio i decreti ministeriali e ministeriali dell'interno 18 marzo e 19 agosto 1996, ulteriori norme collegate, non so, per esempio sugli impianti DM3708, i compiti demandati, sanciti dal regolamento di attuazione, si direbbe che non manchi nulla. Invece dal 7 giugno 2017, 7 giugno è la data di emanazione della nota del capo della polizia, in un breve lasso temporale, si sono, io direi, stratificati delle indicazioni operative, delle raccomandazioni, delle disposizioni, tutte all'interno del ministero dell'interno, per aspetti di ordine pubblico e per aspetti di sicurezza, diciamo safe and security. Vista queste emanazioni dal 7 giugno, un dubbio, erano presenti dei buggy oppure dei voti normativi? Cioè il legislatore riconosce dal 7 giugno che mancava qualcosa? Diciamo che il 100% della sicurezza è una strazione teorica, c'è una soglia sociale di accettabilità del rischio che viene trasposta dal legislatore. L'ha detto prima anche questo, l'ingegner Pulito con i DM ottobre 2005, 26406, gallerie ferroviarie, gallerie stradali, all'interno del DM 3 agosto 2015, codice, il legislatore ha anche sancito in modo esplicito, in pochi disposti regolamentari, ma presenti, che il rischio zero non esiste. E quindi il 100% della sicurezza è solo una strazione teorica. Chiaramente questa soglia può essere, diciamo, mutata. Mutata per condizioni di contesto mutate. Motivazioni? Sociali? Politiche? Scientifiche? Tecnologiche? Economiche? La traslazione di questa soglia di accettabilità sociale del rischio con conseguente trasposizione del legislatore sicuramente non potrà traguardare il rischio zero. Cosa mettiamo in campo per permetterci un guadagno di sicurezza? Misure di prevenzione, misure di protezione, misure gestionali. Come diceva l'ingegner Pulito, nella mia precedente vita lavorativa ero un meccanico. E quindi, scusatemi, la leggera divagazione. Vi pongo la domanda, la riflessione. In quegli anni, siamo, diciamo, negli anni 70-80, a vostro giudizio, i veicoli non rispettavano la normativa? Oppure erano pericolosi? O la normativa era inadeguata? Notate che il concetto di cellula di sicurezza in quegli anni non era presente. scusate la provocazione di questo slide. Oggi i veicoli, secondo voi, sono sicuri? E secondo voi, oggi la normativa è adeguata? Quindi, sfrutto queste riflessioni per ridire quello che hanno detto i relatori che mi hanno preceduto. Quindi, diciamo, non tutti gli aspetti sono semplificabili in chiave on-off, in chiave digitale 01. Ritornando, invece, agli aspetti delle commissioni di vigilanza e la sicurezza della manifestazione. Anche di questo vado velocemente, perché, detto dai miei predecessori, diciamo che gli allestimenti temporanei presentano ulteriori specifici indicatori di pericolosità. E quindi, la regolamentazione del legislatore e le valutazioni delle commissioni di vigilanza comportano delle specifiche misure di sicurezza atte a compensare gli aggravi di rischio e quindi l'invarianza dei livelli di sicurezza tra l'impiego permanente e le strutture normate in modo, diciamo, ordinario, canonico dai decreti e le utilizzazioni estemporanee di strutture, come diceva prima l'ingegnere Amaro, non progettate all'origine per quell'impiego, questa, diciamo, invarianza dei livelli di sicurezza è garantita dal lavoro delle commissioni e dall'inserimento di misure di sicurezza ritenute necessarie e idonee. Un semplice estratto di quello che potrete trovare in modo organico nella relazione. Per questi eventi in siti non progettati all'origine e allo scopo, il lavoro, diciamo, l'analisi di rischio svolta a monte del progettista, dell'organizzazione dell'evento e poi le valutazioni della commissione sono fondamentali per individuare e mitigare i pericoli di contesto. Ad esempio, pericoli di contesto, viabilità veicolare, esodo o allontanamento. Ricordavo, ingegnere Amaro, ricordavo erroneamente esodo biblico e invece era allontanamento biblico e quindi ho citato esodo. Quindi, cuspidi, ostacoli architettonici e arredi urbani, autorimesse, depositi, impianti tecnologici e a rischio specifico adiacenti, presenza di specchi d'acqua o fiumi, pavimentazioni regolari, dislivelli, rampe, scale, discontinuità geometriche, parapetti, condizioni fitostatiche di alberi d'alto fusto presenti, rischi indotti da condizioni meteoriche eccezionali, eccetera. Per gli eventi spazi aperti e non delimitati, l'ulteriore fattore di pericolosità del sovraffollamento generalizzato dell'aria. La risposta, a mio giudizio, è unanime da tutti i relatori di oggi che l'approccio non è quello di vietare l'impiego delle piazze, altrimenti ci troveremmo una soluzione che noi tecnici chiameremmo banale, siccome siamo tecnici dovremmo ricercare soluzioni anche quelle non banali. L'approccio canonico dei progettisti delle commissioni prevede quindi lo studio e la verifica della rispondenza normativa dei siti. Adesso qui ci fermiamo diciamo è un confine fra questo approccio canonico dal castello normativo che ha rappresentato prima l'ingegner Pulito e chiamiamolo questo approccio esteso ampliato indicato e tracciato dalle disposizioni che si sono stratificate dall'estate scorsa a seguire. Quindi queste disposizioni sono nate da ritorni di esperienza di eventi incidentali e chiamano i soggetti interessati tra cui le commissioni a un approccio diciamo ulteriore in risposta a cosa? A tutto quello rappresentato prima dai relatori io non so voi ascoltando i relatori se siete rimasti per certi aspetti spiazzati immaginando magari un qualcosa diciamo di innovativo o di punto di arrivo vi devo dire che non è un punto di arrivo quello tracciato dai relatori a mio giudizio ma è uno strumento operativo effettivo da impiegare altrimenti con l'approccio canonico ci ostiniamo a voler dare risposta per esempio a un problema psicologico con l'ortopedia non possiamo accanirci con strumenti impropi su un problema che è diverso quello che hanno detto i relatori che mi hanno preceduto lo stato emotivo cognitivo e comportamentale del pubblico gli stati di allarme sociale avuti per minacce diciamo globali la resilienza sociale l'effetto gregge e la dinamica di comportamento delle folle con fenomenologia diversa dagli analoghi parametri riferiti ai singoli individui la progettazione e la gestione degli eventi con analisi dinamiche per mitigare i rischi dei sovraffollamenti localizzati questo aspetto è essenziale altrimenti non possiamo accanirci con analisi statiche quando il problema è dinamico è proprio lo strumento diverso non è errata l'analisi statica ma l'analisi statica ci permette di valutare e dare risposte a una parte delle tematiche la progettazione quello che ci ha detto l'ingegner Fronteret abbiamo degli strumenti questi strumenti io li riterrei sicuramente utili per un processo di ottimizzazione e un processo che ci permette di scartare le logiche non utili la logica utile selezionata allo strumento necessita di un'ulteriore vestizione una vestizione di cosa? di tutti gli elementi diciamo gestionali che hanno rappresentato i relatori perché? perché lo strumento non lavora nel dominio delle pressioni lo strumento non dà risposta nelle aree con densità di affollamento localizzate ma superiore al 0,4 persone metro quadro questa immagine le zone scure non sono delle zone dove il pubblico ha dei vestiti eleganti diciamo l'effetto visivo è dato dalle densità di affollamento la densità media statica rispetta l'ipotesi di progetto e la validazione dell'ente di controllo il problema in chiave dinamica durante i transitori dell'evento e allora si che riusciamo a dare una risposta diciamo effettiva alle problematiche di sicurezza immaginavo questo conto la rovescia inesorabile che mi ricorda l'ingegner Sillitti l'ho pure segnato nelle slide e quindi io credo alla predominanza di guadagno di sicurezza necessario guadagno di sicurezza rispetto a questi ulteriori pericoli dato dagli aspetti gestionali quello rappresentato dal dottor Zuliani dall'ingegnere Uliotti anche l'ingegner Ronchi l'architetto Remondo diciamo da tutti il relatore d'eccezione dell'ingegner Pulito e anche dell'ingegner Amaro nel codice per chi di voi diciamo utilizza questo strumento lo potremmo sintetizzare con la nostra terminologia da detta ai lavori settore antincendio con mutare la caratteristica prevalente degli occupanti da B ad A quindi familiarità e questo aspetto questo mutare effettivamente la caratteristica prevalente degli occupanti non è inquadrabile con approcci ortopedici di aggiungere moduli larghezze percorsi addirittura avvitarsi a ricercare un sistema di esodo dal sistema di esodo a mio giudizio la normativa che più che la normativa le disposizioni i regolamenti le indicazioni che si sono aggiunte hanno dato veramente una risposta per i grandi eventi i grandi eventi a mio giudizio adesso hanno una vestizione di metodologia diciamo robusta le disposizioni anche questo detto all'ingegner pulito a partire dalla nota del capo dipartimento vigili del fuoco hanno rappresentato e precisato con molta attenzione questi aspetti approccio flessibile analisi selettiva analisi adattiva principi di proporzionalità e progressività dei provvedimenti rispetto alla natura e alla magnitudo dei rischi potenziali alla luce di queste suddette precisazioni che non sono un mio compendio sono inserite in quei regolamenti cosa si è registrato per gli eventi minori il mio feedback che è un po' impietoso registro un certo smarrimento dei soggetti interessati rispetto a questi principi di flessibilità e quindi si sono intese le misure di sicurezza come condizione cogente con oneri derivanti spesso non sostenibili e conseguenti difficoltà organizzative o annullamento degli eventi qualcuno ha inteso queste ulteriori misure alternative o compensative rispetto agli obblighi di base della normativa canonica paradossalmente ingenerando potenziali o almeno volendo ingenerare potenziali maggior rischi quindi a mio giudizio è necessario un piano formativo per piano formativo e informativo per le manifestazioni minori una sorta di manutenzione per correggere questa fase di rumore che io percepisco per gli eventi minori la nota del appunto quello che vi dicevo questa è una rubrica a me tanto cara direi le parole sono importanti quello nel fumetto non è un mio compendio è indicato testualmente nella nota del gabinetto del ministro dell'interno cioè direttiva per i modelli organizzativi a garantire alti livelli sono allegate delle linee guida sperimentali strumento non cogente di supporto speditivo per l'effettuazione di una prima valutazione sui livelli di rischio delle manifestazioni con relativi suggerimenti per calibrare le misure di sicurezza atti a mitigare gli stessi rischi ripeto non è un mio compendio sono termini testuali quindi le parole sono importanti concludo no basta vi lascio le slide se sono fuori scusate grazie